Fu un provino pieno di tensioni, Marcello sentiva il mio disagio, era disorientato dalla mia incertezza, provammo coi baffi, senza baffi, con la parrucca, senza, le lenti a contatto, ma Mastorna non c'era. Raccontare Fellini oggi con un inedito, con qualcosa che non è mai stato visto, almeno nella sua interezza, ecco, come ci siete arrivati? Voglio sapere come sei arrivato a questo materiale. Nell'archivio dell'NBC ho trovato Director's Notebook, il film di Fellini, per la televisione, e soprattutto mi aveva colpito come era stato conservato negli archivi americani, cioè con grandissima spolvero, in maniera molto, giustamente, molto celebrativa, di avere una televisione americana, un film di Federico Fellini. Quando ho scoperto che in Italia il film apparteneva a Compagnia Leone, quindi a Federico Scardamaglia, l'ho subito chiamato, perché era necessario, secondo me, raccontare questa storia, cioè la storia di come era stato fatto il primo film per Fellini, per la televisione, oltre 50 anni fa. Fellini non è mai stato snob, mentre altri suoi colleghi di quegli anni non hanno mai voluto fare televisione. Lui e Rossellini avevano fatto televisione anche per gli americani e poi, ovviamente, per la Rai. Qual è la straordinaria rarità del materiale su cui avete lavorato, amalgamando, attraverso una voce narrante arci famosa, come quella di Neri Marcorelli? Ci sono un sacco di materiali pazzeschi, c'è il provino di Mastroianni per Mastorna, però devo dire che il più straordinario degli elementi che c'è nel notebook è la presa in giro di Marcello Mastroianni. Provino Mastroianni Mastorna prima! Bassa un pochino più la testa, Marcello. La testa? Bassa! Vi state zitti lì dietro? Federico, perché non facciamo mandrache? È forte, mandrache. Pensa come ci divertiamo, lo adatti a me, mandrache di Frosidon. Fellini immagina che ci siano il tour delle turiste americane e che lo vadano a visitare come se fosse un pezzo, quotidianamente, come se fosse un pezzo della Roma antica. Marcello Mastroianni! Marcello Mastroianni! Marcello Mastroianni! In entrambi i film si vede Fellini bambino nel notebook sulle gambe di suo padre e invece nei clown si vede questo bambino che entra all'interno del circo. Ecco, questo secondo me è quello che accomuna questi due film. Un bambino spettatore che vede qualche cosa di straordinario, di assolutamente unico come può essere lo spettacolo del circo, il grande spettacolo del cinema. Noi volevamo che il documentario fosse narrato da Federico Fellini. Volevamo che a questi materiali fossero integrati con la voce di un grande attore come Neri Marco Re che interpretasse Fellini, cioè non è una voice over. Lui interpreta Fellini e che racconta una serie di cose, una serie di riflessioni sulla televisione. Caro Peter, eccoti brevemente un po' di idee, appunti e proposte che possono dar vita al programma televisivo di cui abbiamo parlato. Continua il nostro vagabondare tra le rovine, in cerca di un'ispirazione che non viene. La verità è che è difficile riuscire a immaginare gli antichi romani diversi da quelli che abbiamo visto la prima volta al cinema quando eravamo bambini. Fellini negli anni in cui ha girato questo film aveva un ufficio a Via Archimede 161. Quella che si vede nel film è la stazione del trenino della Roma Nord di Piazza Euclide. Uno pensa che sia un set, non è un set, è quello che tutti i migliaia di romani, magari non sempre con grande entusiasmo, prendono tutti i giorni. Ed è interessante come quel trenino che lui prendeva poi per andare chiaramente verso Piazza del Popolo e così via, fosse il luogo da cui lui ha immaginato il viaggio in una Roma antica. Quando Federico Scardamaglia ci ha messo a disposizione i clown, ci siamo resi conto che questa versione restaurata in 4K di nove ore era tutto il film. Io credo che Compagnia Leone sia l'unica società al mondo che oggi ha un film intero di Fellini che può essere addirittura rimontato, perché ci sono tutti i ciac, ed è questa cosa incredibile, non stiamo parlando del film finito e di eventuale backstage, ci sono tutti i ciac che Fellini ha girato. Noi abbiamo anche verificato questa cosa con Blasco Giurato, che oggi è un grande direttore della fotografia, all'epoca era l'operatore che abbiamo riconosciuto per atto delle immagini. Quindi questa è la cosa straordinaria, cioè io spero che magari Federico poi prosegua questo progetto, chiaramente magari con un grande regista, un grande artista, perché sarebbe l'unico caso in cui un film di Fellini può essere interamente rimontato secondo una nuova sensibilità. Le sue nove ore in 4K è veramente di una qualità straordinaria. Ricercare e trovare, diciamo, del materiale è ormai dimenticato, è stata una grande emozione e da lì è partita anche la voglia di raccontare di nuovo questa storia del film I Clown, che è stato prodotto nel 70 da Fellini e mio nonno. Dovono essere sei film per la RAI e ne hanno fatto soltanto uno. Mescolare, diciamo, quello che è andato in onda, il block notice e le cose che abbiamo trovato inedite è stato veramente emozionante, poi il risultato finale. Quindi qual è la vita adesso di questo lavoro? Beh, noi il compagnia Leone ha sempre fatto i film, i suoi lavori per il pubblico. Noi abbiamo l'intenzione di farlo vedere al pubblico più vasto possibile e per quanto riguarda la distribuzione internazionale c'è un ingresso nella compagine di Raycom che sta distribuendo con ottimi risultati sia per le piattaforme sia per le televisioni il prodotto. In Italia lo vedremo prima su Sky Art e poi vedremo anche come avere la possibilità, oltre ai festival, alle rassegne, ai posti specifici, di avvicinarlo il più possibile al pubblico. Insomma, perché comunque è assolutamente straordinario e inedito vedere Fellini che è il regista più amato, più conosciuto, più ricordato come ha creato questi due lavori.